No ragazzi, io ho detto 150 a testa. Comunque noi 300 euro non l'abbiamo. E io non so che farci. Uno sconto studente. E vabbè, non sono mica un museo. Cosa vuol dire? Con 75-75 qualcosa si fa, no? No. Scusate, i soldi di chi sono? Miai. Eh, e allora viene lui. Sì, io so. Cazzo ne so, guarda la televisione. Cosa guarda la televisione? Andiamo. Se ci aggiungo 30 euro? L'ho detto di no. Che fai, mi dai il mio regalino? No, sì, scusa. Grazie. Quello è il nostro lettino. Ce la facciamo? Vieni, dai. Ma sei un po' timido tu, però. È la mia prima volta. Ah sì? Allora facciamo una cosa bella. Ti va? Devi stare un po' più rilassato, però. Che c'è? Non ti piaccio? Dai. C'è un problema. Un problema? Ma qui? E fammi vedere. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah? Mmm. Vabbè. L'ho già visto? Sì, alcuni ce l'hanno. E riescono a farlo comunque? Sì, l'importante è che stai attento.